Gli amici della Fondazione Civiltà Bresciana e i missionari saveriani di Brescia hanno proposto due incontri sul tema Giappone, il secolo cristiano. Venerdì 16 aprile è stato organizzato l'incontro Organtino Gnecchi Soldi, il secondo padre della cristianità giapponese. Sono intervenuti il padre Renato Filippini, missionario bresciano, enunzi alla Stella, laureata in Scienze delle Religioni. Il secolo cristiano, come è stato detto appunto all'inizio e a cavallo tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, che inizia con San Francesco Saverio, il nostro fondatore dei missionari saveriani, il primo e il fondatore, il patrono, il primo missionario che ha portato il Vangelo nella terra del sollevante. E poi questo periodo si concluderà però nel Seicento, nella seconda decade, con l'espulsione di tutti i missionari e l'inizio di cruenti persecuzioni, alla ricerca dei cristiani con torture, eccetera. Il Giappone poi si chiuderà, chiuderà le proprie frontiere al mondo per oltre 250 anni. In questo periodo qui, appunto, come ho detto, scoppiano le persecuzioni verso la fine, dopo un inizio molto splendido di crescita del cristianesimo. E a proposito di persecuzioni abbiamo un altro bresciano gesuita che verrà martirizzato nel 626, il padre Beato Giambattista Zola, proprio originario di Brescia, ecco, la cui memoria è il 20 giugno nel calendario diocesano. Per poter parlare di padre Organtino bisogna inserirlo in un contesto storico, qual era il suo, molto, molto complesso, che era quello del XVI secolo. In realtà ci troviamo in un panorama storico di grandi rinnovamenti e cambiamenti, sia per il Giappone ma anche per la Chiesa Cattolica. Il secondo incontro si è tenuto venerdì 23 aprile con l'intervento di Costantino Brandozzi, studioso di storia giapponese.